eccoci qua bene ragazzi allora con un bastone oggi con un sarong e con un coltello e le mani nure facciamo per cui un esercizio come avete capito che si può ripetere sia con le mani nure il lubat, il cisao, il sparring come volete voi, il plazao in tecnica e col coltello con il gran bit anche volendo con un bastone con il sarong e volendo anche con due bastoni ma per oggi mi limiterò a farvi un video tra mano nura ripetuto tutte e tre sono solamente esercizi progimento tre esercizi con la mano nura dopodiché coltello bastone e sarong iniziamo buona visione ok qua la mascia il primo esercizio è su un pugno elimino blocco qui blocco sempre qui vengo e colpisco poca mascia vengo blocca e vado provo con la mano arriva il pugno blocco arriva il numero 2 arriva il pugno blocco qui stavolta invece di fare questo gira così mi proteggo come avete visto e colpisco arriva il pugno blocco avete visto come sono messo verso di lì non qua dopo lo capite col coltello giro colpisco e vengo uno qui gira e vengo lo faccio con la mano finistra arriva blocco qui giro e colpisco trova lei vengo qui gira e colpisce il numero 3 è il simile non fa qui non fa qui arriva fino a qui in alto da una gomitata si libera il gomito colpisce e va perciò vengo vengo uno qui qui e qua l'altra parte arrivo mi puoi fare la mano con una terra giro avete visto mi libero colpisco e vengo in ubal le ripetiamo in ubal così qua perciò qui qui blocco vengo e vado blocco mascia vai il numero 2 il numero 2 vengo e vado il numero 3 il numero 3 blocco il pisco e vengo qui ecco perfetto con il coltello vediamo con il coltello prima che mi arriva blocco avete visto come mi sono messo l'altra parte non voglio essere qui quando arriva posso colpire posso andare a rompere un braccio perciò mi sono messo nella posizione di salvaguardia non voglio che mi tagli la faccia adesso uno mi blocca ora guardate la parte importante questa mano qui se io faccio questo lei mi taglierà così taglia mi taglia quando è qui prova a tagliarmi il mio gomito questa parte qui del gomito ha bloccato lei vuole andare io posso tagliare guardate la mia gamba dietro in modo tale che non può scappare via lo ripeto viene qui blocco taglio e qua il numero 2 blocco e sono qui sempre laterale non faccio questo che mi taglia quando sono qui tengo vedete la mano che ce l'ho controllata tengo blocco scendo a tagliare la mano e vengo qua l'importante è quello che le tagliate anche la mano da capo uno due qui taglio e taglio faccio gola non stacco qui piccolo mano qui e qua tagliate tutto va qui qua qui da gola poi cosa una volta questo qui numero uno questo qui numero due numero tre numero tre viene stacco quando vengo presa anche la mano se è forte qui non posso girare e devo stare attento a queste da qui non sollevo da qui spingo la mia energia fuoco elimino taglio taglio la mano ed elimino trovo lei giù la prendo qui e qui giro ok vi ripetiamo tutto qui per cui questo qui è uno questo è il due questo qui è il tre in ubat in ubat uno faccio lei via un centro il due è questo che lo facciamo adesso la testa ok blocco taglio poi gira qui su in tre in tre quando è qui mantiene taglia e qui ok col bastone e facciamo prima da fermi poi in uno arriva il primo poi arriva blocco e sono qui colpisco arrivo blocco e vado e posso disarmare avete visto lo ripeto arriva vum guardate come arrivi dentro posso andare a calciare colpire spacco la faccia qui spacco giro qui qui e disarmare però adesso l'uno qui va qui e qua ok lo ripeto blocco calcio colpisco elimino guardate come ho da qui può partire un elastico da qui può partire qui uno due ma per ora due qui e qua esercizio il numero due il numero due passa qui qui e qua avete visto? e qui quando mi blocca giro uno due qui e qua lo ripeto uno guarda giro posso girare 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 e girare tocca a me due qui gira qui dite dove vuoi uno due e tre la cosa importante è costruire la faccia da qui qui sono coperto per la testata non sono così sono qui ora non sono qui ora non sono qui quando è qui sono sempre coperto guardate ho la mia linea centrale sia che faccio dal banico sia che faccio questo sia che torno giù vengo qui e qua non c'è mai un attimo che sono scoperto nel viso numero tre numero tre blocca viene qui scari viene qui e prendo qui là quando arriva qui giro guardate qui ho messo il bastone via arrivo e prendo dopo abbiamo quattro count come va a finire in quattro count per tutti che e qui ben uno il due posso girare qui posso girare qui giro vum due posso girare due il tre giro vai a prendere mantengo qui giro qui e slozzo questo è così il nubac non cambiava niente quando sono il nubac posso girare il mio bastone andare a colpire vedete il nubac qui colpisce la maschia qui qui questo qui è uno arriva sia che sono dentro sia che sono fuori non cambia niente sono qui 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 e qua queste qui sono delle nozioni proviamo con il sarong ok vediamo con un sarong e vediamo ok lasciarla bene penso che mi metto qui si vede il pugno arriva il pugno blocco qui qui e qui giro strozzo da qui è finita bam vedete visto che posso uccidere immediatamente eppure il mio sarong è libero non uso sarong tradizionali ok libero arriva il pugno qui è bloccata qui è bloccata qui è bloccata giro qui ed ecco è finito questo è uno il 2 guardate qui questo qui blocca il 2 giro qui c'ho qui giro ed ecco i due lo ripetiamo altra parte ok pugno qui giro qui sto attento alla testata giro qui e c'ho il numero 2 compagniazzo il 2 il 3 1 3 arriva qui prende non cambia niente giro qui prendo e vado tutto questo qui lo posso fare ieri in U-BAC chi se ne prendo sono in U-BAC ok e qui ah scusate qui blocco vengo e strozzo in CIZAO CIZAO ok blocco qui vengo qui blocco e vado CIZAO sto bloccando ok qui blocco qui giro qui vengo e blocco non è importante come voi mettete 3 shoe 2 shoe blocco qui e blocco la PSAO blocco qui giro e vengo quando avete un concetto valgono mille tecniche mille tecniche non valgono un concetto ok grandi ragazzi a presto ciao 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 ciao